Sono Carole Imbriano, docente di genetica presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Modena in Reggio Emilia. Lo scopo di questo corso è quello di fornire le conoscenze di base dei meccanismi epigenetici della regolazione del genoma, in particolar modo del genoma umano. Vi illustrerò quindi brevemente il contenuto del corso, fornendo innanzitutto quella che è la definizione di epigenetica, che riguarda le alterazioni dell'espressione della funzione genica senza che vi siano alterazioni della sequenza di DNA stesso. Lo studio dell'epigenetica, quindi in associazione agli studi di genetica, è risultato fondamentale per comprendere i meccanismi attraverso i quali un genotipo riesce a essere espresso in un fenotipo. Molti sono gli stimoli esterni e interni dell'organismo che possono alterare e influenzare la regolazione epigenetica del genoma e possono quindi alterare la manifestazione di un fenotipo, sia in modo positivo che in modo negativo. Il corso è strutturato in 17 lezioni che permetteranno la comprensione dei principali meccanismi epigenetici e come questi possano interferire nell'espressione del fenotipo. I requisiti per questo corso sono quindi quelli di avere delle buone basi di genetica e di biologia molecolare. Gli studenti che arriveranno alla fine di questo corso acquisiranno competenze per poter comprendere i meccanismi epigenetici nelle condizioni sia fisiologiche che patologiche, nozioni riguardo le metodiche maggiormente utilizzate negli studi di epigenetica e infine saranno in grado di valutare in maniera critica e interpretare le ultime ricerche nel campo dell'epigenetica.